Patrizio Bertin, presidente di Ascom Padova. Parliamo dei centri commerciali che dovrebbero sorgere a Padova. L'Ascom ha detto no. Siete in attesa di una sentenza del TAR? Sì, noi siamo in attesa della sentenza del TAR, che a breve spero si pronunci, perché riteniamo che gli spazi, come abbiamo detto, non ci sono più per far centri commerciali. Riteniamo che questa battaglia deve essere anche sentita di più, sia dalle parti politiche e istituzionali, perché in questo momento c'è una situazione seria, una situazione dove non si hanno risposte chiare e dove gli imprenditori stessi sono in confusione. Non possiamo assolutamente accettare né consumo del territorio, dopo vediamo cosa succede, abbiamo emergenze tutti i giorni con morti anche e soprattutto anche dal livello di punto di vista economico non sorreggono più. Quindi dobbiamo anzi promuovere sia il negozio di vicinato, sia i centri storici. Tutta questa economia che è sempre stata la base del nostro modo di essere, ritengo che deve essere valorizzata e premiata, non punita con i centri commerciali.